Da oggi Arte per Te diventa un canale inclusivo, o almeno ci proviamo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state? Io benissimo, vengo fuori da un periodo molto faticoso. Ho concluso il mio percorso di formazione al TFA, adesso sono un'insegnante specializzata in sostegno e quindi posso permettermi di fare quello che ho desiderato fare da sempre, da quando ho aperto il canale YouTube, cioè parlare di arte anche in relazione alla disabilità. Fino a questo momento non ho reputato opportuno farlo perché non ho voluto espormi pubblicamente senza avere un titolo che fosse alla base delle mie parole. Non che la mia conoscenza sia variata tanto, perché tutto quello che ho scoperto in merito alla disabilità sì, deriva molto dal mio percorso di formazione, ma deriva anche tanto dalla mia esperienza lavorativa. Chi mi segue da tanto sa che ho insegnato per 15 anni in un'accademia di belle arti e per altrettanti 15 anni sono stata collaboratrice esterna esperta d'arte per il comune di Catania per i progetti didattici rivolti alla scuola comunale. Adesso ho interrotto questi percorsi già da un po' di tempo, mi sono dedicata soprattutto al canale nella diffusione e promozione e formazione dell'arte. Naturalmente però, durante il mio progresso lavoro in accademia e a scuola, mi sono interfacciata molto spesso con la disabilità e ho avuto un approccio, diciamo, personale, dettato dalla mia sensibilità, non suffragato da studi che potessero appoggiarmi nel mio relazionarmi alle persone con disabilità. Adesso quindi voglio conciliare quello che è un percorso di formazione ormai concluso e acquisito con quelle che sono le mie esperienze pregresse per fornire un servizio in più alla mia comunità e a coloro che passeranno di qua. Cioè facilitare la fruibilità dell'arte a tutti, a tutte le persone, senza alcuna distinzione. Rendere possibile l'avvicinamento all'utilizzo del mezzo arte a chiunque voglia farlo, senta il desiderio di farlo. Nello stesso tempo spero che questi video possano servire anche alle persone che invece lavorano a supporto delle persone con disabilità per fornire quegli strumenti pratici, concreti, necessari per affrontare un lavoro che sia produttivo, formativo, gratificante e che possa rendere felice chi lo fa e chi riceve appunto l'operato delle persone che si adoperano in questo senso. Cominciamo quindi la nostra avventura parlando dello spettro autistico, un disturbo del neurosviluppo che caratterizza molte persone, molto spesso anche persone che non lo sanno, rientrano nello spettro autistico perché parlare di autismo è parlare di tanto ma nello stesso tempo parlare anche un po' del nulla perché non esiste un solo tipo di autismo. Ci sono tante caratteristiche differenti che individuano la persona con autismo e naturalmente ci sono anche tante caratteristiche di differenziazione tra una persona e l'altra come in tutte le cose della vita. Questi video quindi non saranno dei video esaustivi, daranno solamente uno spunto di riflessione a quello che deve essere un atteggiamento positivo e propositivo per cercare di entrare in relazione e traslare dei concetti a delle persone con bisogni educativi speciali. Ricordiamoci che la disabilità non risiede nell'individuo ma risiede nel contesto in cui l'individuo opera. Quindi dobbiamo essere in grado di fornire un contesto atto a poter sviluppare la propria persona, a poter sviluppare i propri desideri, a poter sviluppare un proprio percorso di vita che sia quanto più autonomo e soddisfacente possibile. Andiamo quindi a vedere cosa possiamo fare per facilitare il contesto arte per l'acquisizione di nozioni tecnico-pratiche all'interno della nostra disciplina. Oggi parleremo di quelli che sono i presupposti principali e fondamentali affinché si possa iniziare un percorso di creatività artistica con persone con autismo. Indipendentemente dal livello di disabilità che può essere lieve, moderato o grave, dobbiamo essere in grado di porre in essere quei presupposti affinché si dia accesso alla fruizione dell'arte nella maniera più indicata possibile. La prima cosa a cui dobbiamo badare sicuramente è quello che viene definito il setting. Noi lo chiamiamo il piano da lavoro, la postazione, cioè l'organizzazione in piano, cioè nel posto dove la persona deve operare, disegnare, dipingere, fare collage, quello che più vogliamo. Quindi l'organizzazione degli spazi. La prima cosa da attenzionare è la fonte di luce. La luce è l'elemento fondamentale per la riuscita di ogni lavoro artistico. E naturalmente dobbiamo porre i presupposti affinché questa luce non crei delle ombre particolari, non oscuri parti del lavoro, non agevoli all'assopimento, non agevoli alla noia. Deve essere un posto luminoso e bene areggiato. Naturalmente la luce può essere o naturale o artificiale, perché molto spesso può anche prevedersi un'attività artistica serale. In quel caso attrezziamoci con delle lampare e facciamo in modo appunto che il piano di lavoro sia ben illuminato. Quindi la disposizione degli elementi. A seconda di ciò che dobbiamo fare, reiteriamo un setting che sia sempre il medesimo. Pur variando la tecnica, infatti, ricordiamoci che l'autismo ha quasi sempre come caratteristica comune a tutte le persone quella di avere una spiccata propensione alla routine, all'abitudine, alla reiterazione di gesti che risultano in qualche maniera rassicuranti nel percorso. Quindi poniamoci sempre nello stesso posto, poniamoci sempre con gli elementi posti nella stessa maniera. Quindi i pennelli sempre nello stesso posto, i colori sempre nello stesso posto, pur variando la natura dei colori, le pezzette o i panni da pulitura, indipendentemente da che cosa servono, sempre piegati allo stesso modo e posti nella stessa postazione, e il supporto da ripingere posto sempre nello stesso posto. Questo proietterà proprio la persona ad essere incanalata in quello che è l'atmosfera giusta per cominciare il lavoro. Diciamo che individuerà quel posto come luogo atto a fare quella cosa. Capiterà infatti molto spesso che un ragazzo con autismo sia predisposto a lavorare in determinati luoghi piuttosto che in altri. Nella mia esperienza è capitato che un ragazzo che ho seguito per molti, molti anni lavorasse benissimo in classe con me, ma si rifiutasse categoricamente di fare la stessa cosa a casa, perché a casa non si fa quello. Noterete nell'avvicinarsi di un ragazzo con autismo alla propria postazione che cominceranno una serie di gesti preparatori. Molto spesso capita. Non bloccateli. Quelli predispongono proprio la persona, per quanto concerne la mia esperienza, è capitato sempre così, a entrare proprio nella concentrazione per quel tipo di attività. Sono dei gesti preparatori che si possono risolvere nel sganciare l'orologio e appoggiarlo in un certo punto del tavolo o controllare le tasche o mettere un camice cominciando ad abbottonare sempre nella stessa maniera. a cui dovrete sviluppare una serie di attitudini personali che servono a accogliere tutti questi gesti come dei gesti appunto di normale preparazione al lavoro. Non infastiditevi, io vi dico questo perché voi sicuramente in questo momento direte ma cosa può dare fastidio in un gesto preparatorio nel dover aspettare un attimo affinché un orologio venga appoggiato sempre nello stesso modo, sempre nello stesso posto o il controllo delle tasche possa dare fastidio. Il primo giorno non lo noterete nemmeno, il secondo giorno ci farete un sorrisino su questa cosa e direte oh guarda, sta facendo la stessa cosa che ha fatto ieri. Il terzo giorno comincerete a guardarla magari come una cosa strana, il quarto giorno magari vi lamenterete di questo fatto perché lo vedrete come un qualcosa di assolutamente rallentante che possa far perdere tempo. Dovete educarvi in questo ad assistere le persone con disabilità seguendo quelle che sono le loro modalità. Noi non dobbiamo passatemi il termine normalizzare, dimentichiamolo questo termine perché la normalità signori miei oggi vi do una dritta incredibile non esiste. La normalità è quello che ci facciamo andare bene per un vivere comune che possa essere ottimale a tutti e in questo tutti molto spesso escludiamo grande parte delle persone. La normalità non esiste, esiste l'individualità, la personalità, le caratteristiche individuali di ognuno di noi che dobbiamo cominciare a rispettare per tutti gli individui. e anche aspettare dei tempi necessari per alcune persone fa parte di un grado di civilizzazione ed educazione che è essenziale per chi vuole essere d'aiuto e chi vuole essere inclusivo nei confronti di tutte le persone. Finiti questi gesti preparatori naturalmente si comincia. A questo punto molto importante l'atteggiamento della persona che aiuta a introdursi nel mondo dell'arte una persona con autismo. Innanzitutto non diamo nulla per scontato. Cerchiamo di comprendere se abbiamo catturato l'attenzione della persona che abbiamo innanzi. Il che non significa che quella persona ci debba guardare negli occhi e ci debba seguire ma che abbiamo fornito loro qualcosa che catturi l'attenzione. Vogliamo fargli riprodurre un quadro prendiamo una bella foto a colori di quel quadro e sottoponiamola alla loro attenzione e nel frattempo col gesto della mano accompagnato ad un tono di voce che sia caldo e preparatorio e tranquillizzante andiamo a esporre tutto quello che vorremmo fare su quel lavoro. Naturalmente come vi dicevo prima i livelli di attenzione da persona a persona possono differire notevolmente ci sono persone con un autismo assolutamente chiuse nel loro mondo ci sono persone con un autismo che riescono a mantenere un rapporto un interscambio sociale questo naturalmente dipende dal tipo di autismo dalla situazione che si pone in essere in quel momento anche dal punto di vista emotivo dai giorni queste cose variano col variare del giorni dobbiamo essere degli attenti osservatori perché sta alla base di quello che è l'esercizio della didattica con tutti i nostri discenti essere degli osservatori capire se quel giorno è un giorno semplificando un giorno no o un giorno propenso è un elemento fondamentale di ogni docente e quindi dobbiamo essere in grado di carpire quelle che sono le propensioni atte in quella giornata e sfruttarle quindi un atteggiamento positivo propositivo sorridente calmo naturalmente predisporrà anche all'ascolto non prevedete sessioni di trasmissione orale quindi di parlato molto lunghe ma fate in modo di intervallare il parlato con delle parti pratiche tra i gesti preparatori un altro gesto che potrà veramente aiutarvi notevolmente è la preparazione o all'inizio o alla fine della lezione degli strumenti per esempio se lavorate con matite colorate una cosa che piacerà tantissimo piace quasi sempre ai ragazzi con autismo è temperare le matite con un temperino elettrico il temperino elettrico produce quasi sempre state attenti a questa caratteristica del vostro strumento un suono bianco è il passaggio nel temperino e dell'affilare la punta è qualcosa che gratifica moltissimo quasi sempre gli studenti con autismo o le persone con autismo i nostri figli coloro che vogliamo aiutare assistere nel momento creativo un altro elemento che può servirvi è un phon anche lui suono bianco per asciugare velocemente e ridurre i tempi di attesa della lavorazione perché questo è qualcosa di molto importante ridurre i tempi di attesa per non annoiare un phon può essere un altro elemento molto molto divertente per i ragazzi con autismo un altro elemento che aiuta tantissimo a mantenere la postazione pulita e quindi il soddisfacimento la tranquillità interiore dei ragazzi con autismo è un piccolo aspirapolvere per pulire magari i filacci di gomma lasciati dalla cancellatura o pulire che ne so le polveri derivanti da una carteggiatura e lasciare quindi uno status quo del setting da lavoro pulito e ordinato durante tutta l'elaborazione del lavoro stesso una cosa molto importante che dovrete tenere sempre presente che io ho imparato nel mio primo anno di insegnamento in accademia è la capacità di risolvere i problemi al posto della persona che sta lavorando quindi della persona con autismo la persona con autismo nel momento in cui accade un problema all'80% entra in crisi e mette in atto quella che viene chiamata una stereotipia cioè un comportamento che è evidentemente fuori dal contesto che state vivendo in cui si percepisce proprio una crisi emotiva della persona che ha perso i punti di riferimento bene voi dovete essere lì presenti per ristabilire la tranquillità emotiva di quella persona quindi un autocontrollo della persona che assiste un'enorme pazienza per i tempi dell'altra persona un non impanicarsi quando succedono gli incidenti nel mondo dell'arte è necessario perché gli incidenti nel mondo dell'arte noi sappiamo noi che facciamo arte sono all'ordine del giorno ci sono delle persone che però non hanno gli strumenti emotivi per porre soluzione a quelli che sono i problemi che vengono messi in atto dobbiamo essere noi quindi a aiutarli supportarli e insegnarli di volta in volta perché non è detto che queste soluzioni vengano recepite vengono fatte proprie dalla persona che c'è accanto ma in questo caso anche se la soluzione non viene presa non viene assimilata dalla persona sarete assimilati voi come punto di riferimento di quella persona come punto di rassicurazione come punto di guida i ragazzi con autismo hanno un modo molto particolare di rispondere emotivamente al rapporto interpersonale non dobbiamo immaginarci che loro esprimano l'affetto la vicinanza come lo si fa come siamo abituati a pensare che lo si faccia loro hanno una visione molto utilitaristica delle persone mi serve l'acqua ti prendono la mano e te la portano vicino al bicchiere la maggior parte delle cose delle volte succede così ma quel rivolgersi a te è l'espressione del legame che avete creato quell'avervi come punto di riferimento quel sapere che voi ci siete vuol dire che avete agganciato l'emotività di quella persona che quella persona conta su di voi e voi dovete essere sempre con lui con lei a supportarlo l'autismo ha un mondo interiore che è molto complesso e che io non ho mai capito fino in fondo certe volte mi sono fermata a pensare che forse è la visione più intima della persona stessa l'autocoltivazione il chiudersi l'avere tutto all'interno di sé entrare in relazione con questo mondo molto profondo anche per noi che assistiamo queste persone nella crescita e che le aiutiamo a formarsi può essere un momento di grande ampliamento della nostra persona perché ci pone a guardare le cose da un punto di vista differente come loro la guardano da un punto di vista differente e guardare le cose da più punti di vista sicuramente amplia gli orizzonti dobbiamo essere capaci di andare oltre quello che è il limite che ci siamo imposti come persone e includere all'interno di questa visione tutti non dobbiamo includere gli altri prendendoli e ponendoli dentro i nostri limiti ma dobbiamo abbattere i nostri limiti e unire tutti i confini creando uno spazio immenso unitario per tutti un'altra cosa che potrà capitarvi delle tecniche artistiche più idonee da far sviluppare ai ragazzi con autismo ve ne parlerò in un altro video perché ci vuole un video solo per quello però una volta che avrete sviluppato le tecniche più idonee per coltivare la creatività artistica anzi la tecnica artistica dei vostri ragazzi dovrete stare molto attenti perché si innesterà un meccanismo perverso che diventerà automatico sicuramente i ragazzi eccelleranno in qualcosa mi è sempre capitato tutti i ragazzi con autismo dall'asilo dalla scuola materna all'accademia che hanno fatto bene qualcosa vengono automaticamente portati dall'occhio sociale a dover fare sempre e soltanto quella cosa perché le persone che gli stanno attorno amorevoli felici finalmente appagate dall'aver trovato qualcosa che piace a quel ragazzo saranno portate a fargli fare sempre quella cosa perché in quella cosa finalmente riescono bene e naturalmente io da persona che vuole bene a ragazzi con autismo pure io come docente sono più magari gratificata a fargli fare sempre una cosa che vedo che li diverte che vedo e gli riesce che vedo li gratifica ma questo può essere l'inizio della fine questo è capitato anche a me nel corso dei miei anni di docenza quando si scopriva una particolare propensione verso una forma d'arte si automaticamente tutti i docenti ma anche la famiglia io stessa naturalmente cercavamo di proporre quel tipo di forma d'arte affinché ci fosse una soddisfazione generale questa soddisfazione generale però col tempo diventa abitudine per il ragazzo e diventa noia la noia si manifesta in mille modi nell'autismo si manifesta con le stereotipie quindi con i comportamenti reiterati si manifesta con comportamenti problema quindi magari delle crisi un pochettino più vementi si manifesta con l'addormentarsi sul posto di lavoro e questa è la cosa più voi direte ma come i comportamenti problema no è questa sì vedere addormentarsi un ragazzo che ha profuso tanto impegno sul lavoro è la cosa che ti fa diventare il cuore piccolo piccolo dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi siano sempre felici di attendere al lavoro d'arte l'arte comunque deve essere sempre un qualcosa che allieta l'anima e il cuore come lo è per tutti noi lo deve essere per tutti lo deve essere sempre per tutti e quando anche una passione diventa un lavoro diventa un dover dimostrare che tu sai fare quella cosa diventa pesante per tutti solo che la maggior parte delle persone sa esprimere questo disagio altre persone invece non lo sanno fare non lo vogliono fare non si rendono conto di viverlo e di conseguenza dobbiamo essere noi a comprendere quando è il momento di staccare i ragazzi con spettro autistico molto spesso hanno degli interessi molto assorbenti hanno delle cose che gli piace fare in maniera superiore a tutte le altre bene facciamo in modo di alternare il dovere al piacere questi interessi assorbenti servono anche per rilassarsi per dare una sorta di pacificazione interiore alle tensioni della vita che ci pone in essere sempre nuovi problemi da risolvere per esempio se a un ragazzo piace fare delle creazioni stravaganti bene facciamogliele fare non guardiamo sempre al risultato guardiamo anche al percorso per arrivare all'acquisizione di nuove competenze all'acquisizione di un'autonomia all'acquisizione di un soddisfacimento personale di un benessere psicofisico perché l'arte deve servire a questo quindi non mirate al risultato ma mirate al percorso un percorso che sia quanto più completo possibile e mirate al fatto che se si partiva da A alla fine del percorso si debba arrivare magari a B non a Z ma se non si arriva a B non vi preoccupate perché tutta la fatica tutto l'impegno tutto l'amore che avete messo per portare la persona che state seguendo da A a B anche se non vi ha fatto arrivare a B vi avrà fatto arrivare a lui avrete impostato un rapporto avrete quindi ampliato il suo orizzonte ed il vostro un'altra cosa che troppo spesso chi aiuta una persona con autismo fa è sostituirsi a lui nei gesti ah non sai fare questo te lo faccio io ah ti vado a prendere l'acqua per i pennelli ah ti tempero la matita no la responsabilizzazione la spinta all'autonomia nell'approcciarsi al lavoro artistico regala indipendenza ed è la cosa fondamentale perché dall'indipendenza deriva il soddisfacimento creativo di conseguenza tutti questi strumenti la cura del corredo artistico il ricordarsi di dover portare i materiali deve essere una responsabilità che deve essere data al ragazzo vedrete che impareranno subito a prendersi cura dei loro materiali a mantenerli bene a riporli nel posto giusto saranno bravissimi in questo eccelleranno non vi sostituite a loro nel gesto creativo se non sanno fare un particolare di un disegno di un dipinto non fatelo sul loro foglio ma prendete un altro foglio ponetelo accanto del loro lavoro e semplificate quelle che sono le forme affinché loro possano copiare il vostro operato copiarlo secondo quelle che sono le loro caratteristiche andrà benissimo perché ricordiamoci che noi non dobbiamo dimostrare che quella persona sia arrivato a disegnare come giotto ma dobbiamo dimostrare a quella persona che disegnare è una cosa bellissima e può dare soddisfazione portatevi sempre all'età reale del ragazzo e non all'età mentale in questo lo dico non nella relazione di aiuto che naturalmente deve essere rapportata con quelle che sono le capacità cognitive dell'individuo ma nella relazione di rispetto voi se avete d'innanzi un ragazzo di 30 anni non potete trattarlo come se aveste d'innanzi un bimbo di 5 anni il rispetto che deve essere data alla persona che ci poniamo innanzi deve essere un rispetto e una considerazione che deve andare oltre quella che è una sua caratteristica ma deve andare diritta alla persona quindi rapportiamoci sempre con onestà intellettuale svolgendo il nostro lavoro nella maniera più profonda possibile cercando di mantenere sempre un equilibrio interiore con noi stessi e quando questo equilibrio non c'è non spaventatevi nel dire un attimo mi devo fermare mi devo allontanare da questa pratica per fornire un servizio un aiuto maggiore e non spaventatevi anche se siete magari dei genitori se siete dei fratelli se siete degli insegnanti a chiedere aiuto a chi di dovere perché naturalmente è un dovere sociale supportarci tutti affinché tutti abbiamo il nostro soddisfacimento nel nostro percorso di vita di conseguenza chiedere aiuto non ha nessun tipo di valenza negativa ammettere che in un determinato momento della nostra vita non si è in grado di seguire una persona perché non si ha quell'equilibrio e quella forza interiore per farlo in quel momento è molto meno dannoso che far finta di nulla rimanere accanto ad una persona e distruggere in pochi gesti tutto quello che si era costruito fino a quel momento mi raccomando poniamoci delle aspettative realistiche ma di questo ne parleremo nel prossimo video che sarà dedicato all'autismo e alle tecniche pittoriche più idonee a questo tipo di caratteristica bene io spero che questo video vi sia piaciuto vi avviso sin da subito che i video di arte per te da questo momento avranno un leggero cambiamento in ogni video in tutti i video io darò delle proposte differenziate degli si chiamano in gergo adattamenti o meglio delle prospettive delle visioni multiple per la risoluzione di uno stesso problema o meglio se io vi dirò facciamo questo disegno ve lo dirò per come lo farei io per come lo farei fare magari ad un ragazzo con autismo per come lo farei fare magari ad un ragazzo con un'altra disabilità vedremo nel corso dell'opera di arte per te parlerò per situazioni di massima come ho fatto in questo video in cui ho detto tanto ma alla fine forse ho detto pure troppo poco l'unica cosa che voglio fare con questo video e con questi video e con questo modo di affrontare arte per te da questo momento in poi è dare il mio contributo affinché la società tutta la società diventi realmente inclusiva cioè far passare il messaggio che l'inclusività deve passare attraverso la pratica della vita comune di tutti i giorni e se io faccio un video devo anche pensare a chi ha delle forme attuative diverse di un percorso che per me in un modo e per un'altra persona può essere in un altro ricordiamoci che sempre due cose che la disabilità non risiede nella persona ma risiede nel contesto e secondo che tutti possiamo essere potenzialmente dei disabili lo vediamo tutti i giorni basta un incidente basta una malattia basta un contesto sbagliato per non essere più quelli che ci consideravamo prima al 100% e sapere che dall'altra parte c'è una società che non mi farà notare la differenza che non mi ostacolerà nell'esercizio della mia vita penso che sia un qualcosa di realmente importante con questo non voglio dire che tutti da domani debbano mettersi video debbano mettersi a fare video per profondere suggerimenti di cui non hanno nessun tipo di formazione ma sicuramente mi piacerebbe che tutti fossero incuriositi verso questo tipo di formazione che dovrebbe sottendere all'educazione di ogni persona il percorso è ancora lento però se ognuno di noi fa qualcosa sicuramente granellino dopo granellino la situazione potrà migliorare io ci metto il mio bene per oggi penso di avervi tenuti con me abbastanza un video molto lungo che spero apra una nuova era da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo la prossima volta ciao ciao